Prima edizione del premio San Giorgio dedicato ai cittadini meritevoli di Casatenovo. Quali sono quest'anno i casatesi che avete deciso di premiare? La prima edizione del premio San Giorgio, come giustamente è stato detto, è stata istituita dall'auditorium di Casatenovo per premiare i cittadini casatesi, o perlomeno che a Casatenovo hanno lavorato e si sono affermati, premio San Giorgio alle arti e alla cultura. Allora, quest'anno è stato deciso in questa prima edizione di dare addirittura due premi, due premi che saranno due sculture che sono in corso di lavorazione in questi giorni e che verranno consegnati nella serata del 24 aprile prossimo, nel corso della quale festeggeremo il nostro patrono San Giorgio e nel corso della quale appunto in questa serata un po' di spettacolo, un po' di cultura e arti verranno consegnati questi premi. Abbiamo avuto 19 segnalazioni, le segnalazioni si sono aperte all'inizio di gennaio e si sono concluse alla metà di febbraio. Il premio per quanto riguarda le arti verrà dato al maestro Massimo Mazza, direttore della Scuola Civica di Musica di Casatenovo, che ha sede in Villa Mariani a Galgiana e poi ha un curriculum di un certo spessore. Il premio invece è riservato alla cultura e è stato invece assegnato a Nino Molteni, che per 30 anni è stato presidente della Proloco di Casatenovo e quindi è stato un promotore per quanto riguarda il settore culturale casatese. Grazie 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 Grazie